Dopo sei mesi di carcere militare, ora per Maurizio Malcangi e sergente maggiore già in servizio presso il reggimento Interforze di Roma, è arrivata la condanna a restituire i soldi dello stipendio guadagnati legalmente grazie ai certificati medici contraffatti, ben 20.000 euro. I fatti risalgono al periodo che va da agosto 2020 a marzo 2021. Nell'arco di questi otto mesi Malcangi ha presentato 13 certificati medici firmati da alcuni medici ignari del raggiro. L'obiettivo di Malcangi era quello di usufruire di alcuni giorni di riposo a casa dichiarando di essere in convalescenza e continuando a percepire lo stipendio. Con questo stratagemma il sergente ha presentato certificati il 12 novembre 2020 e il 13 dicembre 2020 in cui si prescriveva terapia e riposo per ulteriori 20 giorni per malattia. In quei giorni ha ricevuto 2.833 euro di stipendio poi il sergente ha risultato assente dal servizio dal 16 dicembre all'8 marzo 2021 sempre sulla base di certificati medici che attestavano il suo stato di malattia e la necessità di riposo a casa. Malcangi non ha perso neanche un giorno di retribuzione anzi ha studiato il calendario alla perfezione per evitare di finire i giorni d'assenza per malattia retribuiti previsti dal contratto nazionale.